fratelli umani attraverso vanda albano 8 giugno 1998 a cura dvb i fratelli cosmici salve nel nome di dio padre e di tutta l'energia vibrante e sottile che partendo dal nucleo centrale va a bagnare tutta la creazione pur facendo parte di un'altra galassia noi ci sentiamo investiti dall'energia che irradia tutto il cosmo l'energia che scende su di voi fratelli umani è infatti la stessa che riceviamo noi e tutti gli abitatori del cosmo anche i pianeti lontani e ancora privi dello sviluppo dell'evoluzione sono permeati da questa energia ma non sanno come usarla per avere il privilegio di prepararsi ad iniziare la propria evoluzione che per ora non è possibile se tutti i pianeti si mettessero in moto nello stesso momento infatti si determinerebbe il caos e si altererebbe l'equilibrio perfetto che adesso fa muovere l'intero cosmo in assoluta sincronia ognuno ha il suo turno perché l'evoluzione così come è concepita si realizza in completa armonia e d'altra parte non potrebbe essere diversamente la perfezione non è solo una parola un concetto essa è sincronizzata perché tutto si muove in armonia